Manichini iperrealistici e realtà virtuale per formare medici e chirurghi di domani. Al Gemelli Training Center arriva una nuova generazione di simulatori per l'apprendimento di manovre e procedure chirurgiche in situazioni molto simili alla realtà, anche in condizioni a elevato impatto emotivo. L'obiettivo è formare i giovani medici in maniera sempre più moderna, tenendo conto sia dell'emotività che bisogna imparare a gestire in situazioni emergenziali, sia dell'importanza del saper lavorare in squadra. Se ne è discusso nel corso di un'iniziativa alla quale hanno partecipato Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center e uno degli attori più amati del piccolo schermo, Luca Argentero, protagonista della fiction di Rai 1, Doc, nelle tue mani. Tra i manichini presentati c'è Victoria, un simulatore avanzato di parto dotato di un modulo di realtà aumentata e progettato per aiutare gli studenti a colmare il divario tra teoria e pratica per un'esperienza formativa nuova. Così gli studenti potranno gestire in totale sicurezza le varie situazioni di parto complicato, oltre a eseguire un cesareo in un contesto simulato. Insieme a Victoria, per la rianimazione invece, sono stati presentati i simulatori iperrealistici Simbodies con moduli Trauma, il simulatore avanzato Apollo con il modulo Ecografia, il simulatore LungSim per la ventilazione meccanica, il Bloxim che insegna a fare le anestesie locoregionali e Eigenflow, il simulatore per ECMO, il sistema che in questi due anni ha aiutato a sopravvivere all'insufficienza respiratoria grave tanti pazienti con Covid.